Le orchidee più belle del mondo le trovi a Pistoia! Sabato 8 e domenica 9 ottobre vieni a Orchidea, la mostra mercato internazionale con espositori di orchidee e pianterare da tutto il mondo. Nel centro Mati 1909, subito dopo l'uscita dell'autostrada, troverai piante bellissime, consigli per il tuo giardino, degustazione di vini e prodotti tipici toscani e il ristorante agrituristico Toscana Fair, dove potrai gustare i nostri prodotti dell'orto. Non prendere impegni allora, l'8 e il 9 ottobre ti aspettiamo a Orchidea!